Una lettera aperta al sindaco Federico Sbuarina, l'hanno scritta 14 professionisti veronesi per chiedere trasparenza e competenze nella nomina dei vertici delle aziende partecipate del comune. Tra i 14 iscriventi, avvocati, medici, psicologi, professori universitari, ingegneri, architetti e manager, è comprensibile che i prescelti debbano condividere i valori e il programma della giunta, si legge nella missiva, ma non sarebbe ragionevole, ma anzi dannoso, se venissero nominate persone prive delle necessarie competenze. La lettera poi si sofferma sulle regole procedurali da introdurre, sull'esempio dei comuni di Milano, Torino e Firenze, la possibilità di presentare candidature anche da parte dei gruppi di cittadini, la comunicazione obbligatoria sul sito del comune dei curriculum vita di tutti i candidati prima della nomina, il parere di una commissione di esperti e l'audizione dei migliori candidati in commissione consigliare, infine la decisione del sindaco, motivata e resa pubblica. L'avvocato Luciano Butti è uno dei 14 firmatari della lettera e spiega le motivazioni dell'iniziativa. La nuova amministrazione ha solennemente dichiarato di voler privilegiare le competenze e quello che noi chiediamo è che vengano adottate regole precise per garantire che questo risultato si raggiunga, modificando i regolamenti per le nomine. Giovanna Ghio, ingegnere, li fa eco. Le aziende partecipate sono di natura molto diversa, qualcuna si rivolge ai mercati di servizi e qualcuna invece opera in mercati concorrenziali. Non intendiamo dire come devono essere scelti questi candidati, assolutamente. Vorremmo con la nostra azione cercare di alzare il livello delle competenze sia dei candidati che dei nominati. Dall'entourage del sindaco viene confermato che competenza e trasparenza saranno due pilastri nella scelta dei nominati e consulenti esterni saranno coinvolti nella scelta. Entro Ferragosto Sborina scioglierà le riserve.